Siamo tutti bravi a riconoscere le fake news. Da casa è più facile, ma per strada? Vediamo se loro ci sono riusciti. Bonti donne con la barba, dall'America arriva la tecnica che permette alle donne di impiantarsi la barba. Voi cosa ne pensate? Sembra una cosa un po' assurda, un po' americana. Lei signora? Per me è contro natura, mi sembra una mascherata di carnevale. No, non l'ho sentita. E cosa ne pensa però di questa cosa del trapianto? Voglio dire, una bella barba bionda non è male a una donna. Ma per carità di Dio. Non ero conoscenza. Se adesso è una bella donna ma con la barba, cosa penserebbe? Che non mi piace. Il mio ideale è un po' della donna allo stile nordico. Quindi donne, fatevi la barba nel senso, cioè non fatevi la barba vuole dire. Ehi signora, cosa ne pensa di queste donne che vogliono trapiantarsi la barba? Sono normali. Che tanto a una certa età qualche pelo cresce lo stesso. Basta aspettare. Esatto. Signora, ha sentito questa notizia che viene dall'America? Questa nuova tecnica che usano le donne per trapiantarsi la barba? Non ho idea. Non ha idea signora? Non l'ha sentita? No, no. Lei è contro il trapianto di barba? È contro le tinte signora? Non sono assolutamente d'accordo. Ma sai che secondo me non sarebbe male con la barba? Effettivamente ci ho già provato con questo. Hai cominciato con i buffi scommesso? Sì. Perché sono interetnico certamente, però su queste cose posso. Quindi se avete la barba non ci provate col signore, anche perché è scosato. Ho stata l'idea di togliere i peli superflui e adesso metterse lì. Tu che hai una bella barba, no? Sì, mi dimmi. Hai sentito questo fatto che le donne in America si stanno facendo impiantare la barba? Ma tu come le vedresti? Barbute. Ma cioè a te piacerebbe una donna con la barba? Ma che è una donna con la barba? A lei piacerebbe una donna con la barba? No. Ma sei una bella donna ma con la barba? Con la barba no. Due baffetti? Niente. Basette? Niente. Donna deve essere buona. Lei non se la farebbe la barba? Cioè no che ce l'ha, nel senso non se la metterebbe la barba. No, non me la metterei mai, assolutamente. Cosa ne pensa? Visto che comunque è del settore. La trovo ridicola. Io sono per la donna in tutto e per tutto. Quindi se viene qualcuna che dice fate le barbe? No. Se venite qui chiedete solo i capelli. Capelli per le donne. Per le donne. E per gli uomini anche volendo taglio capelli. Allora magari mi fermo più tardi. Non fatevi crescere la barba e non fatevela mettere. Al massimo solo i baffi perché donna baffuta dicono sempre piaciuta. Vorrei sapere a chi. Buona giornata. A me non piace che quel tipo così non... E questo è chiaro. Mi chiamano padre bio. E soprattutto tu vero. Salgo, quel rum, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Che cos'è il tutorial? Ma che mi metta con lo spedro cognato. Mamma, mamma, mamma non è come se... Sì. Ma non rimaniamo scuola amici. Ah, 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 ah.